Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione che si apre come tutte le mattine qui su Fano TV sul canale 17 alle 7.30 in diretta con repliche che poi si alterneranno fino alle 8.30 e poi durante la giornata fino alle 13.30 l'ultima replica della rassegna stampa rassegna stampa che come sempre comincia con il santo del giorno, lo vediamo subito oggi è San Giovanni da Capestrano, il sole è sorto alle 7.30 e tramonterà alle 18.13 Allora vediamo adesso il tempo invece, il tempo che ci ha preparato la protezione civile delle marche anche con la regione che questa mattina si sveglia con un cielo sereno o parzialmente nuvoloso con qualche addensamento più consistente a ridosso dei rilievi avremo precipitazioni assenti, dunque temperature e lieve aumento nei valori massimi moderati i venti da nord-est il mare sarà molto mosso per la giornata di domani, sabato 24 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso temperature e lieve aumento nei valori massimi, venti deboli da nord-occidentali sole sulla costa, possibili foschie nei fondovalle durante le ore più fredde della giornata domenica 25, ancora cielo sereno parzialmente nuvoloso con temperature ancora in lieve aumento nei valori massimi il mare sarà poco mosso e dunque sarà una giornata così, anche abbastanza calda e soleggiata tempo stabile dunque con un probabile aumento della copertura nuvolosa anche nei primi giorni della prossima settimana questo dunque è il tempo per i prossimi tre giorni adesso invece andiamo ad aprire i quotidiani cominciamo dal resto del Carlino La Pagina di Fano che si occupa dell'arresto, l'arresto di un rapinatore, scippatore seriale speronava addirittura le vecchiette, le persone anziane con il suo scooter si tratta di un quarantenne di centinarola di Fano trascinate a terra le vittime pur di derubarle la polizia e i carabinieri insieme chiedono a chi lo riconosce di farsi vivo l'uomo ammette cinque rapine su sette la politica con Cristian Fanesi che è diventato il settimo assessore della giunta di Massimo Seri si occuperà di viabilità e di servizi cimiteriali un giovane che ha la voglia di lavorare, la voglia di fare non ci sono altri cambiamenti, assicura il sindaco io mi spenderò, dice sul turismo mentre Derrico prende il posto dunque di Cristian Fanesi in consiglio entra il primo dei non eletti questo esponente del Partito Democratico e dunque farà il suo ingresso dovrà invece ancora aspettare fino a metà legislatura Annita Mencarelli visto che Renato Claudio Minardi si è dimesso sì da Presidente del Consiglio Comunale ma non da consigliere e l'altra notizia invece che abbiamo dato ieri sera nel nostro telegiornale delle 20 e 30 è il lutto che ha colpito il mondo del dialetto locale perché? Perché è morto Rino Magnini all'età di 76 anni uno dei poeti dialettali più conosciuti e amati dai fanesi in questi ultimi decenni colpito da una improvvisa malattia era stato ricoverato una decina di giorni fa all'ospedale di Pesaro dove poi l'altro giorno è deceduto ricordo che il funerale di Rino Magnini si svolgerà in forma strettamente privata mentre per volontà anche della moglie il necrologio era affisso in città a esequie avvenute quindi si potrà leggere anche un testo una poesia scritta dalla moglie, dalla famiglia Rino lascia la moglie e una figlia alle quali era molto attaccato e naturalmente a loro vanno le nostre più sentite condoglianze andiamo avanti con la rassegna stampa da San Costanzo noi paese più sano questo non è vero la minoranza sui dati diffusi sulle neoplasie Furlani e Mencoboni troppe variabili non considerate il gruppo Salute parla serviranno settimane per analizzare i risultati e dare un risponso serio le ragazze terribili della Marco Polo si conquistano uno spazio sulla pagina di Fano del Carlino di questa mattina le ragazze dell'istituto comprensivo di Lucrezia hanno ottenuto eccellenti risultati alla fase finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi di pallavolo che si sono disputati a Cervia per l'istituto di Lucrezia andiamo sull'altra pagina guardate questa foto scattata ieri alle 13 a Fossombrone nella centralissima piazza Esedra che cosa c'è che non va? provate a guardare anche voi da casa facciamo il quiz della mattina alle 7.36 così ci svegliamo un po' beh dai facilissimo c'è questa rete da letto che è stata abbandonata è stata lasciata lì nella centralissima ed elegante piazza Esedra a Fossombrone poi andiamo avanti con i giornali allora il problema del freddo non c'è solo il problema del freddo nella caserma della polizia a Pesaro c'è anche dell'altro così come denuncia il SIULP mancano per esempio i giubbotti invernali poi altri problemi insomma nella struttura di via Flacco caschi e divise la protesta dei poliziotti tutto troppo vecchio e non a norma Marco Lanzi la gomma piuma rovinata si sbriciola a pezzetti sulla testa degli agenti poi i legni delle persiane si staccano e cadono in piazza del popolo per il falegname l'unico rimedio è bloccarle e tenerle sempre chiuse riapre la pasticceria Alberini a Pesaro chi subentra sceglie la continuità dopo la morte di Costante un esercizio storico perseguirà l'attività la mobilitazione dei clienti via web ha dato una forte spinta per trovare una soluzione domani ci sarà l'inaugurazione di questa nuova gestione che segue il cambio avvenuto da Germano mentre resta chiuso Nero Caffè in piazza la Corriere Adriatico arrestato un secondo borseggiatore 19enne colpiva nella stessa zona le manette scattano dopo gli accertamenti dei carabinieri a centro pagina anche qui la fotografia e soprattutto la cartina vedete di Fano la zona centrale dove questo quarantenne accusato di sette scippi praticamente ha colpito sono i punti quello con le stelline dove ha messo a segno gli scippi ai danni come abbiamo già detto delle persone anziane poi sull'altra pagina del Corriere Adriatico la Regione ripristini 34 milioni al sociale sia la mozione dei 5 Stelle approvata da quasi tutto il centro-sinistra in consiglio comunale a Fano Minardi con uno scranno anche all'Assemblea delle Marche la voleva ritirare assente durante il voto una buona notizie per chi frequenta i cimiteri nuova navetta all'ulivo e un mobility in altri tre cimiteri in vista del 2 novembre che è la giornata della commemorazione dei defunti anche un sondaggio è stato fatto e nel momento in cui ieri l'assessore Marina Barniese ha consegnato la delega dei cimiteri a Cristian Fanesi ha evidenziato i provvedimenti che ha assunto in vista appunto della ricorrenza del 2 di novembre sulle termine di Carignano invece c'è un accordo più vicino sollecitato da Aguzzi Paolini fa il punto sui rapporti con la società la pagina di Pesaro oggi arriva il nuovo direttore dell'azienda ospedaliera Marche Nord Maria Capalbo e avrà una presentazione tutto speciale perché c'è il presidente in persona il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli che sarà a Pesaro con lei questa mattina per parlare di questo nuovo incarico per presentare alla stampa il nuovo direttore generale appunto Maria Capalbo 50 anni di storia a 1000 euro al mese invece è questo l'affitto chiesto dal custode del ristorante Orizzonte che ospiterà un gruppo di migranti siamo a Colbordolo di Pesaro la pagina invece del messaggero sfondano la vetrata con l'auto per razziare i nuovi iPhone nella notte a Gabic altri furti a Santa Maria dell'Arzilla e poi le pagine interne Ceriscioli che dà i compiti ai suoi assessori dirigenti e quant'altro per raggiungere gli obiettivi alla fine del 2015 quali sono questi obiettivi e gli elenca il giornale romano almeno 35 delegazioni straniere ospitate presenze turistiche del 2% sopra la media nazionale costi degli affitti tagliati del 20% sono solo alcuni degli obiettivi che la regione si è fissata per il 2015 e che dovranno essere centrati entro la fine di questo 2015 di fine anno compiti dirigenti Ceriscioli fa la lista e poi l'altra pagina invece del messaggero si occupa di nella pagina di Pesaro del freddo nelle case e nelle scuole dunque interviene il comune per firmare in anticipo l'ordinanza che da oggi dà la possibilità di accendere i riscaldamenti la provincia cerca una soluzione per i locali della polizia ma lo stabile è sotto sfratto Domenicucci dice la questura deve andarsene poi la fotografia la fotografia che pubblica il giornale è da sinistra Matteo Ricci poi Camilla Fabri Matteo Ricci Camilla Fabri l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano poi Gianfranco Mariotti e Daniele Vimini perché questa foto perché è ufficiale Napolitano l'ex Presidente della Repubblica fa parte del Comitato per le celebrazioni rossignane in vista del 150esimo anniversario della morte di Rossini un anno di iniziative per questo avvenimento ieri la delegazione pesarese è andata a Roma e ha strappato il sì a Napolitano ancora sui su un quotidiano sul messaggero sempre da Pesaro Rivoluzione ZTL per i residenti nuovo piano della sosta almeno 500 auto dovranno trovare spazio fuori dall'isola l'assessore Briglia dice più di mille posti in centro non ci stanno i permessi saranno gratuiti per tutti e saranno installate altre telecamere ma si chiedono tempi veloci tempi celeri sulla sanità i sindaci sono pronti alle barricate ma quali sindaci sono i sindaci dei piccoli comuni che si mobilitano per difendere gli ospedali delle aree interne sono le amministrazioni del centro-destra Sasso Corvaro Cagli e Pergola a guidare la rivolta contro la regione Marche intanto a Pesaro si presenta il direttore generale di Marche Nord Maria Capalbo sarà fondamentale capire le risorse assegnate e il ruolo dei privati chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero vogliamo chiarezza sulla morte l'esposto non è una caccia alle streghe parla illegale della famiglia di Giuseppa Pisanelli che era all'ospedale di Torrette di Ancona per una visita ambulatoriale già programmata e poi a un certo punto è deceduta subito dopo una trasfusione la procura di Ancona ha aperto un fascicolo non ancora fissato la data dell'autopsia vedete in questa immagine l'avvocato Enrico Cipriani mentre sotto il sostituto procuratore Ruggero di Cuonzo a destra invece l'ospedale di Torrette poi sul caso Grisli invece accertamenti su forniture di acqua e luce i carabinieri stanno effettuando accertamenti sulle forniture di acqua e luce l'ha detto ieri il capitano Alfonso Falcucci aggiungendo che le tensioni di un mese fa potrebbero avere conseguenze di carattere penale per chi fra i giovani dello spazio autogestito non ha declinato le proprie generalità ed è questa l'ultima notizia della nostra segna stampa grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata ci vediamo stasera alle 20 e 30 vi aspetto al telegiornale occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti